Ciao ragazzi e benvenuti sono Leferri ed oggi finalmente iniziamo un altro strepitoso viaggio nel mondo di Resident Evil questa volta con l'ottavo capitolo Finalmente è giunta l'ora di Resident Evil Village Fra l'altro vi ricordo che Resident Evil Village è il secondo capitolo di una nuova trilogia con protagonista Ethan Winters quindi di fatto questi saranno gli avvenimenti che succedono dopo Resident Evil 7 tant'è che Capcom ha messo all'interno di questo capitolo anche un mini racconto un mini video sintetico di un minuto un minuto e mezzo che adesso andremo a vedere dove ci verranno ricordati i fatti del capitolo precedente è un video ovviamente che serve a chi non lo ha mai giocato e anche per rispolverare in realtà la memoria a chi lo ha già giocato come al sottoscritto vi ricordo fra l'altro che nel canale trovate tantissimi capitoli di Resident Evil quindi se volete vederli sono tutti pronti per voi quelli principali, l'1, l'2, l'3, l'4, l'5, l'6, l'7 e anche qualcos'altro credo allora bonus filmati qui abbiamo i ricordi di Resident Evil 7 un riassunto della storia di Ethan nel gioco precedente consigliato a chi non ha giocato a Resident Evil 7 Biohazard avanti vi ricordo ovviamente che questo gioco lo troverete per intero nel canale YouTube ma che vorrà portato anche parallelamente su Twitch per cui se ancora non siete follow, seguaci, come si può dire, follower del canale Twitch vi aspetto anche là gli eventi a casa dei Baker risalgono a tre anni fa stavo cercando mia moglie che era sparita e chi se le dimentica voleva che andassi da lei e sono finito in un posto sperduto in Louisiana ho trovato Mia era prigioniera in uno scantinato buio era fuori di testa mi ha attaccato come un animale selvatico poi ho scoperto che era stata infettata da una specie di muffa ho cercato in tutta la casa un antidoto un vaccino, qualcosa ahio suoi abitanti erano erano già infetti quel che ne restava non era umano a causarlo un'arma biologica con le sembianze di una ragazzina si chiamava Evelyn ho combattuto contro la famiglia e mi sono procurato un siero per curare Mia in realtà io ho curato Zoe ho fatto il finale non canonico però va bene dai dettagli poi Chris Redfield e i suoi sono arrivati e ci hanno salvato può abbastare si direi che non voglio parlare mai più di quello che è successo sei stato molto chiaro molto chiaro direi chiaro e sintetico perfetto questi ragazzi sono infatti di Resident Evil 7 noi quindi in Village riprendiamo praticamente da lì se non ho capito male allora nuova partita facile normale estrema villaggio delle ombre sopravvive l'impossibile estrema ma rimpiangerà di aver scelto questa opzione consigliata a chi è familiare con le atmosfere di Resident Evil allora come dico ogni volta non voglio che l'esperienza sia frustrante né per me che ci sto giocando né per voi che state guardando e per cui io direi di partire con la difficoltà normale e una volta concluso il gioco possiamo tranquillamente farlo a estrema o villaggio delle ombre o perlomeno provarci insomma avanti tutta Ethan e vediamo un po' stiamo giocando impostazioni grafiche medio alte praticamente quindi tendenti al massimo quindi mi aspetto qualcosa di molto bello tuttavia la foresta le accolse con un silenzio freddo e buio e cespugli spogli determinata a trovare delle bacche la piccola peste sfuggì al controllo della madre e sparì inghiottita dagli alberi le grida preoccupate della madre svanivano mentre la figlia avanzava tra rami e arrampicanti fino al cuore della foresta avvertendo sguardi misteriosi ricordò i mostri spaventosi delle favole e la sua gola diventò secca apparvi allora il gran pipistro la salutò con calore mordendosi un'ala vieni bambina placa la tua sete le disse lei beve il suo sangue denso e scuro e sorrise con gioia mentre attraversava un cimitero minacciose nuvole coprirono il cielo e l'aria si raggelò la bambina tremò nei vestiti leggeri apparvi allora lo scuro tessitore che schioccando le dita confezionò un bel abito fatto di nebbia vieni bambina riscaldati e le disse la piccola si vestì e sorrise con gioia questa cosa la Tim Burton non me l'aspettavo io attraverso acque scure e nefaste su una barca che sperava la portasse a casa ma la fame era implacabile e il suo animo avvilito apparvi allora il pesce reale che le offrì una delle sue tante pinne vieni bambina riempiti lo stomaco lei mangiò e ancora una volta sorrise con gioia continuando a camminare giunse nello scuro cuore della foresta apparve allora il destriero d'acciaio con uno splendido rocchetto d'oro la creatura non disse nulla ma la bimba si avvicinò e afferrò ciò che pensava fosse un altro dono il cavallo si infuriò e convocò gli altri mostri molto male e poi? e poi? ma la grafica è fantastica ma quanto bello è che bello eh eh ci siamo trasferiti per proteggerla dal passato ricordi? ricordo benissimo piano? sei solo paranoico non è lascia stare scusami ma non sono paranoico sono solo prudente allora metti a letto tua figlia con prudenza preparo la cena ma veramente ragazzi il motore grafico è fantastico e non è neanche al massimo e fra l'altro youtube ve lo dico già non gli rende giustizia eh tua madre non vuole ricordare che figata e non la biasimo ok cutscene finita va bene allora vi volevo dire che come ogni Resident Evil va giocato per bene va esplorato per bene quindi se troviamo dei collezionabili ovviamente li leggeremo eh ci tengo a ribadirlo perché sono molto molto importanti alla storia e all'allore del gioco ecco io è così che gioco Resident Evil per cui mi pare giusto dirlo insomma vediamo qua ho un cartone che bello eh ok i pannolini di Rose presto saranno troppo piccoli per lei l'unità principale del Baby Monitor adesso è spenta va bene proseguiamo e mi raccomando ragazzi lasciate un like per sopportare il video e la serie e anche un bel commento per farmi sapere cosa ne pensate eh fatemi sentire la vostra presenza insomma mi ha comprato un altro libro my first book of ABC ok ho una foto oh che bella questa qua è mia eh mia incinta è un miracolo molto carina quando sarai grande brinderemo insieme ok affare fatto cd i nostri gusti musicali sono migliorati negli anni vuoi dire i miei cosa abbiamo qua hai fame? no magari più tardi non avvicinarti troppo mentre cucino è una minaccia? ci cucina anche noi no no via 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 cosa abbiamo qua? tante care cose mmm tutto molto buono direi qua dove siamo finiti? mia prepara tutto in casa e la roba si accumula ah ok hop va bene una foto di rose mia che bella 2 febbraio 2021 i primi 6 mesi di rose molto molto carina godiamocela il più possibile dici bene dici bene guarda che che viso d'angelo 6 febbraio cereali di riso purè di banane purè di patate dolci crema di spinaci Ethan non darle zucchero o miele e ricorda no ai funghi ok proseguiamo no ai funghi vabbè neanche a me piacciono ma come mai non questo odio verso i funghi boh eh sì eh sì è molto carina quando farà più caldo andremo a passeggio a fare fatto andiamo su qua sotto abbiamo esplorato tutto direi fa la brava l'ho detto a mamma quella favola fa troppa paura hm eh cosa vedo qua vediamo il bagno con uno specchio sospettosamente grigio opaco le medicine di mia è sotto stretto controllo dai tempi dell'incidente ah beh immagino sarà traumatizzata poverina anche Ethan eh c'è dopo quelle cose là cavolo chi è che se le dimentica voglio dire io ne riuscirei mica a dormire la notte credo vediamo cosa abbiamo di qua ma la vedo tipo un bobblehead che sia un collezionabile da rompere di già no non ci credo dai perché continuo a tenerlo in giro dovrei disfarmene prima o poi bisogna pulire prima che Rosy inizia a camminare sì c'è un po' di casino effettivamente storia dell'architettura di castelli fortezza dell'Europa orientale George Trevor ma guarda te che coincidenza eh Europa orientale esattamente come l'ambientazione in cui andremo in questo capitolo va bene interagisci cala il sipario sulla fuga di gas a Dulvey il 18 di questo mese sono terminate le indagini sulla fuga di gas tossico a Dulvey in Louisiana avvenute nel 2017 le morti sono state attribuite a una fuga di gas naturale presente nelle rocce sedimentare sotterranea in quell'area Jack Baker 57 e la sua famiglia sono rimasti coinvolti nell'incidente nella quale tutti e quattro hanno perso la vita si crede che anche Ethan Winters e sua moglie si trovassero nei paraggi ma la loro attuale posizione è sconosciuta l'intera area è stata isolata e non tornerà ad essere abitabile prima che ci siano trascorsi almeno dieci anni se ne sono dimenticati tutti eh dimenticati hanno insabbiato tutto che è diverso hanno insabbiato tutto e infatti all'interno di questo gioco ragazzi nei bonus c'è anche un documento che parla della famiglia Baker e parla di questo insabbiamento l'ho vista prima tipo di sfuggita allora questa stanza è il nostro obiettivo sicuramente no non subito a letto i vestiti di rose per domani ok una bellissima vetrina qua niente qua un computer secondo me c'è un collezionabile qua 6 febbraio 2021 io e mia abbiamo litigato di nuovo per caso ho fatto un riferimento a quello che è successo tre anni fa e lei mi ha ruolato contro finalmente ci siamo stabiliti in Europa possiamo iniziare una nuova vita e crescere rose serenamente ma mi sento ancora come se parte di me fosse intrappolata in quell'inferno in Louisiana so che mia odia parlarne ma come possiamo dimenticare tutto e far finta che non sia mai successo nulla non sarebbe giusto affrontare quello che è accaduto in modo da andare avanti con le nostre vite e con rose senza brutti ricordi che ci tormentano la mente lei si merita almeno quello so che anche mia ne è consapevole se davvero non gliene importasse nulla non ci sarebbe infuriata così in ospedale un documento BSA Rosemary Winters nata il 2 agosto 2020 altezza peso vabbè esami effettuati udito vista tatto riflessi i risultati non mostrano alcun problema la paziente è in buona salute notte aggiuntive la BSA fornirà i risultati di esami aggiuntivi riguardo alla presenza di patogeni fungini Applefeld Memoria l'hospital per chi non lo sapesse ragazzi la BSA è l'organizzazione di cui fa parte Chris Redfield che bello ciao piccola Rose che bel pupazzetto la vedo contenta Rose allora armarsi per la sopravvivenza manuale di armi manuale di armi da fuoco per il combattimento sul campo Joseph Kendo ma questo qua secondo me è tipo una sorta di easter egg citazione di Resident Evil 3 vi ricordate il Kendo Shop che c'è anche ovviamente nel 2 perché Raccoon City è quella insomma ecco proprio quello il negozio di armi da fuoco qua abbiamo un bell'album dove la faccia di Ethan è coperta ok qui abbiamo mia al mare mia che cucina poi cosa abbiamo mia che guarda le ecografie le ecografie mia all'ospedale c'è moltissima cura in queste cose c'è tanto amore la neonata viene abbracciata che bella che bella e qua che figata sembrano quasi foto vere mi verrebbe da dire stupendo basta non ce ne sono più chiudiamo il giro della stanza l'abbiamo fatto secondo me possiamo mettere a nanna si si hai ragione Ethan hai ragione a letto fa cos'altro qua e bau bau niente o bau bau niente va bene allora a letto Rose a letto tiè metti a letto Rose a posto adesso è molto più scattante vediamo vediamo se c'è sta dormendo il baby monitor che prima era spento giustamente adesso funziona che bello un tocco di classe guardate che bella cenetta che carina che è mia come un bambino che buon odore che cos'è oh tieni giù le mani è ciorba di legume una ricetta locale wow ti sta integrando bene vero anche il vino è di qui ma se continui a fare il musone tutta la sera non credo che te lo darò ho visto dei bicchieri strani devi smetterla di preoccuparti sono tipo mezzo invisibili boh trovarti in Louisiana la gravidanza Chris che ci manda qui l'addestramento militare è successo tutto in fretta beh almeno ora siamo insieme tu io Rosa vedrai che adesso andrà davvero ti sembra facile dimenticare quello che è successo in Louisiana è passato tanto tempo ormai non riesco a capire perché tu sia così che cazzo che cazzo sta succedendo che cazzo stiamo vedendo no Chris che inizio di merda è no ma vabbè ma ci deve essere un motivo ragazzi non può essere come sembra mi rifiuto di crederlo mi rifiuto di crederlo non può essere così Rose che cazzo vuoi fare con mia figlia consegna il sicuro portatelo via togli le mani di dosso Ethan no Rose fuori di qui un inizio un inizio un inizio scioccante oserei dire scioccante non me l'aspettavo tristissimo ma non può essere così dai dottoressa salve signor Winters i risultati di sua figlia sono pronti e vorrei discuterne con lei che ne dice di giovedì prossimo alle quattro d'accordo ci saremo era la dottoressa abbiamo un appuntamento ascolta sii positiva ok ne abbiamo già parlato lo so ormai non parliamo più d'altra io te lo ripeto ancora una volta non mi preoccupa Rosa e quindi cosa ti preoccupa senti Rosa starà bene nessuno c'è che cos'altro c'è penso a noi due penso a te e non capisco mia di che stai parlando c'è qualcosa che non mi hai detto coraggio parlami merda devo rispondere lavoro mia non è particolarmente contenta però il mio piccolo angelo che bella sta foto e qua mi sa che siamo ghiacciati e in mezzo alla neve per cui non è un buon auspicio oi che succede un'altra cutscene ok e qua tocca a noi vediamo obiettivi della missione eliminare il bersaglio recuperare il corpo portare via Rosemary e Ethan Winters trasportare i due Winters al sito C per effettuare ulteriori indagini necessario almeno due agenti di scorta non funziona che cacchia è successo qua il disastro non si può andare dentro ma io onestamente ci sarei andato credo è giusto per capire un attimo magari per trovare una pistola che al momento purtroppo non abbiamo va bene possiamo solo camminare lentamente per cui camminiamo lentamente è tutto molto buio ma è ovviamente voluto anche perché ho settato molto bene la luminosità all'inizio del gioco non entrare ah bene scommettiamo che noi entriamo giustamente scommetto che noi entriamo vabbè dai ah aia eh una mano particolarmente sfigata alla sinistra di Ethan non so se vi ricordate ma nel capitolo precedente gliel'hanno mozzata mia gliel'ha mozzata chi è ok che cazzo c'è in giro ma io fosse posto di Ethan col cazzo che andare avanti credo che tipo mi rintanerei nel furgone a morire di freddo piuttosto che andare di qua mamma mia ho i brividi fra l'altro sono bellissimi da vedere graficamente inquietanti ma belli porca di quella vacca ma che cazzo boh boh cristo santo Ethan ma sei sicuro di voler andare avanti cazzo sei ancora in tempo per scappare come un coniglio una morire di pesci qua promette bene insomma promette bene e qua una finestra e una porta e tanto sangue vediamo se c'è qualcosa da controllare una fune ah che bro boh vabbè acqua mmm promette bene eh ok va niente ehi là armi no niente armi ok ho un brutto presentimento tipo non so il perché ma che cazzo animali impagliati poverini va niente frutta marcissima qua qua cosa abbiamo ok inquietante ma che cazzo un simbolo particolare dobbiamo aprire ma sei convinto Ethan si apriamo è un topino molto carino adesso adesso magari mi giro e ci sbranano cazzo no però c'è un buio pesto porca troia che cazzo è stato torniamo su direi di sì non vedo molte alternative che cazzo che cazzo che cazzo che cazzo Cos'è successo? Ma Ma tutta sta luce, cavolo? Ma se era buio pesto fino a un minuto e mezzo fa, ragazzi Com'è possibile? Hai passato un minuto Boh, va bene Facciamo finta di nulla Facciamo finta che va bene così, che vada bene così, va bene, dai Oh, finalmente possiamo scattare, vai Scavalca Corri come il vento, Ethan Perso la morte probabilmente, tipo Tutto molto lineare per il momento Che figata, ragazzi Che panorama mozzafiato Cioè, inquietante, eh, sapendo cosa ci aspetta, bene o male Però Fantastico direi Fantastico Sembra una foto, cavolo Una foto Meraviglioso Va bene E in questo punto di stallo Direi che possiamo concludere la nostra prima puntata Sabbiate che oggi in giornata Ne arrivano almeno altre due o tre Se tutto va secondo i piani Per cui mi raccomando Lasciate un commento Grazie e a presto Ciao a tutti 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 Ciao a tutti